Con Alice Pasquini che sta realizzando questo murale ad Alba Adriatica sulla facciata esterna di una scuola. Che tipo di idea è nata dietro a questa creazione? Ovviamente ogni soggetto parte dall'idea del muro e dal contesto del muro, quindi ci troviamo davanti su una scuola, davanti ad un'altra scuola, quindi per me era importante inserirmi in questo contesto con qualcosa che fosse un messaggio per i più piccoli. In questo caso l'idea appunto della lettura, attraverso la lettura si viaggia con la fantasia, la bambina si sta elevando e quindi è immersa nella lettura mentre intorno a lei volano i libri. Questo è un aspetto importante nella sua carriera, tante creazioni, tante realizzazioni e anche un modo nuovo di vedere le città, no? Assolutamente, viaggiare in questo modo, insomma sono più di 15 anni che io viaggio in tutto il mondo lasciando segni in molte città, da muri più grandi a più piccoli ed è sicuramente un modo di attraversare la città fuori dai percorsi più turistici.